Questa è casa Bartoli, quella che i residenti del quartiere Trave chiamano l'abitazione dei Marcon, riprendendo il cognome della famiglia che ci risiedeva. Si trova in via del torrente e da oltre 30 anni è lasciata l'abbandono con il conseguente degrado anche dell'area circostante. Giusto ieri, nel pomeriggio, è andato a fuoco un camion parcheggiato poco distante, fermo da circa 20 anni e posto sotto sequestro. Pure l'intorno, oggi, è pieno di vegetazione spontanea. Sul rogo forse doloroso proseguono le indagini. Intanto gli abitanti continuano a chiedere, a gran voce, una riqualificazione dell'intera zona. È di proprietà del comune di Fano, è una casa che potrebbe essere recuperata per tutto il quartiere, per tutta la città. Ci sono diversi progetti, ma progetti rimasti tutti nel cassetto. Quello che vediamo è però l'attuale situazione. Degrado assoluto, vegetazione abbandonata da 30 anni. Ora, ultimamente, con tanti ragazzi che entrano dentro per giocarci, per farci altre cose, ma con un grado di pericolosità tremendo. È stato anche oggetto in passato di sgumbri con delle famiglie che stanziavano all'interno. Vorremmo che questa zona fosse un attimo recuperata o facendoci anche uno sgambatoio. Adesso, al momento, sulla parte qui verde che vediamo, voglio dire, così può essere ripulita e sicuramente utilizzata da tutto il quartiere, ma anche da altre persone che vengono da fuori Fano. Inoltre, può essere nel progetto che condividiamo, voglio dire, c'è il progetto iniziale, ma basta portarlo a termine, è quello di farci una sede, una risultazione completa e farci anche delle sedi di associazioni, diciamo, sia di quartiere che cittadine che altri enti che magari potrebbero utilizzare questa struttura. Architetto, dunque, potrebbe essere messa a disposizione della comunità? Senz'altro, è una struttura storica, è una struttura che il quartiere conosce bene, è una struttura che anche come toponimo ci ricorda la vita che c'era all'interno di questa che era una casa colonica. Oggi, comunale, ci sono stati bei progetti, grandi progetti, progetti purtroppo non realizzati. Mi viene da dire che forse si potrebbe provare a spezzettare un po', a volare un pochino più basso, cominciare a pensare di metterla proprio a servizio del territorio, cominciare a dare una responsabilità anche all'associazionismo locale, oppure tante situazioni che potrebbero venire fuori e potrebbero rendere questo spazio non più uno spazio degradato in mano a nessuno, ma uno spazio utilizzato da tutti e soprattutto dal quartiere.